Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso apprezzamento per l'attività svolta nel corso del 2022 dalla Garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Giuseppe Fanfani. L'aula ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata su proposta della Commissione Affari Istituzionali e illustrata in aula dal Presidente Giacomo Bugliani. 26 voti favorevoli PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, 12 contrari, Lega e Fratelli d'Italia. Si tratta di una relazione che dà conto di molti aspetti della popolazione carceraria, a cominciare dai numeri delle carceri toscane, dal decremento di popolazione carceraria in Toscana a fronte di un aumento a livello nazionale, c'è una disamina dei singoli istituti penitenziari, si registra un significativo aumento del ricorso dell'Istituto della Messa alla prova e si pone l'attenzione ad alcuni aspetti come ad esempio la tutela della salute negli istituti di pena della nostra Regione, il tema delle REMS di Volterra e di Empoli o ancora delle carceri minorili di Pontremoli e di Firenze. Una disamina, quella del garante dei detenuti che tiene conto anche di una serie di impegni che il garante stesso ha assunto, come ad esempio lo sviluppo di un convegno e di una ricerca dedicata al lavoro nelle carceri e soprattutto anche al lavoro delle persone che sono in uscita dal carcere, proseguendo anche quella serie di incontri che il garante sta svolgendo insieme alla prima commissione presso tutti gli istituti carcerari toscani. L'ultimo che è stato visitato dalla prima commissione assieme al garante è stato il carcere di Volterra. Proprio per questo il Consiglio regionale ha deciso di esprimere parere favorevole alla relazione annuale del garante auspicando anche che si vada gradualmente ad una riforma della legge istitutiva del garante secondo quelle linee guida che sono state già recepite da altri consigli regionali italiani, così come elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel 2019. Anche se apprezziamo il massimo impegno delle garante, dice Marco Casucci della Lega, la nostra contrarietà nasce in un confronto aperto e schietto sul concetto e sul significato di pena. Noi abbiamo una concezione più ampia di quella del garante, non solo una concezione preventiva che del resto è attuativa della Costituzione, le pene non possono che tendere alla rieducazione di chi ha sbagliato, ma anche una concezione retributiva, chi sbaglia deve pagare. Questo è un principio che in questo Paese non sempre trova dovuta applicazione, così come noi guardiamo con interesse e gradiremo a venire se fatta anche dal garante, che è una figura principalmente destinata ai detenuti, ma anche all'altra metà del mondo carcerario. Le guardie carcerarie, le cui condizioni sono oggetto di nostra attenzione da tanto tempo. Siamo preoccupati perché, malgrado vi sia meno sovraffollamento, chiamiamolo formale, le condizioni nelle celle per i detenuti sono spese al limite della dignità umana. Abbiamo letto pagine che ci hanno inquietato e abbiamo anche vissuto da vicino l'esperienza del carcere di Sollicciano. E poi due percentuali su tutte. La prima, indubbiamente, è quella della popolazione carceraria straniera. In Toscana il 46,5 rispetto al 31 della media nazionale. Ci domandiamo se tutto ciò non sia frutto anche di una cultura relativista, buonista, ideologista della sinistra. E la popolazione carceraria con problemi di droga, il 25%. Vediamo che il garante Fanfani lascia alla discussione politica il tema sulle droghe. È un tema che comunque si dovrà affrontare. Per quanto mi riguarda, la mia è una concezione di pena diversa dal garante, ma è che io comunque apprezzo il garante e il suo staff per l'impegno. Questo lasciatemi dire una grazia a chi non si lamenta, a differenza di altre figure di tutela, che si impegna per cercare di espletare il proprio ruolo. Ci sono delle differenze che motivano il voto contrario, ma oggettivamente costato l'impegno che c'è a riguardo. Per Fratelli d'Italia il consigliere Diego Petrucci ha illustrato le ragioni del voto contrario. Ma sicuramente in quella relazione ci sono dei buoni spunti, alcuni dei quali sono assolutamente condivisi anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, ma noi riteniamo che sia una relazione incompleta che non affronta tutti gli aspetti che dovrebbe affrontare un garante dei detenuti a livello regionale. A partire dal grande tema delle REMS, ovvero le strutture alternative al carcere dove dovrebbero scontare la pena le persone con malattie psichiatriche. Ebbene, è bene sapere che in Toscana ci sono 70 persone in lista d'attesa, ovvero 70 persone che dovrebbero scontare la pena non in carcere ma in una struttura protetta, quale appunto le REMS, che invece non possono farlo perché le REMS non hanno posti a sufficienza. Su questo la regione Toscana è in ritardo, è bene dirlo. L'unica struttura a ciò di vita si trova a Volterra, è una struttura provvisore dal 2015, il che significa che da 8 anni siamo in una situazione di provvisorietà. Tutti gli addetti ai lavori, tutti gli operatori che dovrebbero svolgere la propria attività nella REMS di Volterra dicono essere il luogo non idoneo per poter svolgere quel tipo di funzione. Rispetto a questo la regione Toscana continua da 8 anni a non dare risposte. Così come l'altro grande tema che non viene trattato in maniera adeguata è il fatto che il 60% dei detenuti nelle carceri Toscana sono detenuti stranieri. Su questo finalmente c'è un governo a livello nazionale che si sta impegnando perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena nel proprio stato d'origine e questo, attenzione, va nell'interesse nazionale perché il 60% costa tantissimi soldi e fa sì che ci debbano essere ulteriori strutture che in questo momento non abbiamo, ma va anche nell'interesse il detenuto stesso che magari se ne avesse la possibilità deciderebbe di scontare quella pena all'estero presso la propria nazione perché magari più vicino alla propria affetta e alla propria famiglia, alle proprie persone care. Sì come detto arriva da Italia, viva che ha posto l'accento anche sulla necessità di una revisione degli organismi di garanzia. Ci impegniamo, sosteniamo l'attività della funzione di garanzia che pone il Consiglio regionale al centro di una di quelle attività similari che vengono poi svolte con il difensore civico. Abbiamo chiesto che ci fosse maggiore integrazione anche con le funzioni svolte dal difensore civico perché siamo coloro che hanno proposto una revisione degli organismi di garanzia che pongono il difensore civico anche al di sopra di ogni altra funzione di garanzia e anche come attività di coordinamento di quella dei garanti e dei detenuti ma anche quella dell'infanzia di adolescenza. Sindaco di Monte San Savino in provincia di Arezzo, già presidente e amministratore delegato dell'Agenzia regionale Recupero Risorse, Marco Meacci è il nuovo presidente dell'Ecorecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. Succede ad Enso Brogi e così illustra i primi obiettivi della nuova gestione del Comitato regionale. Veniamo da un lavoro precedente molto importante e molto positivo guidato da Enso Brogi. Noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora che guardando al futuro. In particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana in modo da farlo conoscere, far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controverse telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. E poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche in modo da rendere sempre più il Corecom uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. Con lui presentati anche i nuovi membri del Comitato regionale Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giogoli, Biagio De Presbiteris. Siamo già pieni di idee, soprattutto cercheremo di portare avanti le ottime idee intraprese dal vecchio Comitato, in particolar modo quello del patentino digitale. Poi abbiamo appunto idea di dedicarci maggiormente anche a quelli che sono i social perché appunto il mondo sta cambiando molto velocemente e vorremmo che il Corecom fosse sempre più presente in questo mondo che va veloce e che cambia e far conoscere sempre di più in Toscana il Corecom che è un organismo importantissimo. Pronti a partire? Credo che la comunicazione oggi sia uno strumento strategico di connessione e di collegamento. è importante la percezione anche della vicinanza delle istituzioni e cittadini oltre che la vicinanza reale. Credo che il compito del Corecom sia dare questa visibilità, questa percezione, fare tante cose e comunicare anche che si stanno facendo perché è importante anche il livello di percezione se facciamo comunicazione. Quindi oggi è un momento importante, è un momento come il primo giorno di scuola, c'era entusiasmo, ci si conosce, ognuno di noi potrà dare il contributo, cercando di essere il meno autoreferenziale possibile, ma aprendosi anche a quelle che sono queste contaminazioni che vengono fuori dalla vita vera, dalle minuzie quotidiane come raccontava il Presidente Mazzeo, alle cose più importanti perché poi impattano sulla vita delle persone e quindi sono tutte altamente importanti. Porteremo avanti il buon lavoro fatto dal comitato precedente ma porteremo anche delle nostre iniziative e soprattutto penso al campo della tutela dei giovani dalla rete e io direi anche una particolare attenzione agli anziani perché le fake news sono anche materie insomma che possono danneggiare i nostri anziani. Approfitto di questa occasione per ringraziare nuovamente il Consiglio per la fiducia che mi ha accordato in questa carica. Sono oltre dieci anni che mi occupo di diritto dei consumatori ed è questa l'occasione per farlo a favore di tutti quanti i cittadini toscani. Con l'insegnamento ho trovato un comitato ricco di eccellenze nel mondo della comunicazione che sono sicuro che insieme alla guida del Presidente Meaccio è una macchina amministrativa davvero eccellente. Anche questa riusciremo a fare un ottimo lavoro sperando di eguagliare quello dei nostri predecessori. Alla presentazione del nuovo comitato regionale anche il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e quello della Giunta regionale Eugenio Gianni. Intanto un grande in bocca al lupo a tutti coloro i quali si sono resi disponibili a svolgere un incarico importante per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione ma anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia, cambia velocemente e tocca la vita di ciascuno di noi. Il compito del Corecom è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi per il lavoro, per l'impegno, per l'aderizione e anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Il Corecom oggi si trova ad avere come disciplina e attuazione del proprio operato. Manca ogni riferimento alla dimensione dei social e oggi noi sappiamo che l'informazione passa moltissimo attraverso i social e attraverso la rete internet con tutte le sue declinazioni e ciò che questo rappresenta. Quindi vi sarà un lavoro che è importante verso il Consiglio regionale di promozione e proposizione di quello che saranno le regole su cui il Corecom può svolgere la propria attività. Ancora il Corecom va al centro dell'attività del Consiglio regionale. L'Aula discute e poi approva il bilancio consuntivo 2022. 24 voti favorevoli, 6 astenuti. Nel presentare l'atto in Consiglio, la Presidente della Commissione Istruzione, Formazione, Bene e Attività Culturali si è soffermata sul buon lavoro svolto per una sana comunicazione. Il progetto del patentino digitale è un progetto di punta nell'ambito dell'attenzione per i minori e la Commissione ha chiesto e chiede ancora che venga esteso a tutte le scuole toscane e a tutti i ragazzi e le ragazze toscane come opportunità di entrare nel mondo dell'uso dei social e dei mezzi di informazione in modo più maturo con più strumenti di comprensione. Un'altra delle osservazioni che la Commissione ha portato anche in Aula è stata quella relativa alla diffusione e promozione della conoscenza del Corecom e delle sue attività. Sappiamo che per chi incrocia le attività di questo organo la soddisfazione è sempre garantita. Quest'anno, grazie a un 25% in meno di istanze per quanto riguarda le attività delegate, il Corecom ha potuto anche avere un'attenzione maggiore e una maggiore celerità nello svolgimento delle pratiche, ma ci piacerebbe che molti più toscani e toscane avessero consapevolezza di che cosa fa il Corecom, di che cos'è, di quanto è importante per l'informazione e la comunicazione nel nostro territorio. Il Corecom è uno degli enti di fatto di garanzia che svolge un lavoro molto positivo, lo deve svolgere essenzialmente, gli abbiamo chiesto di farlo, nei confronti anche delle nuove generazioni, nei confronti dei ragazzi, nei confronti di tante persone che hanno dei rapporti anche innovativi rispetto al mondo dell'informazione e della comunicazione e quindi c'è stato un nostro sostegno positivo all'attività svolta che conclude un ciclo, serve anche attuare laddove possibile su nostre indicazioni un po' di maggiore tolleranza nei confronti del sistema televisivo, abbiamo visto in alcuni casi anche molti elementi di rigidità rispetto anche a elementi di carattere sanzanatorio, rispetto a dinamiche anche nazionali e locali, credo che molte volte l'impresa privata che fa anche comunicazione, che fa televisione necessita anche di una forma di dialogo e di tolleranza rispetto a un'attività che comunque è fondamentale rispetto al principio dell'informazione ma che molte volte si espone a dei rischi per l'attività stessa che svolge. Per le opposizioni Lega e Fratelli d'Italia però ha pesato il ritardo di sette mesi nella scelta del nuovo Presidente. Noi ci siamo astenuti perché sì, il Correcom sta lavorando abbastanza bene per quanto riguarda i minori col discorso del patentino digitale, però per ora sono poche le scuole in cui è stato proposto. Noi vorremmo che fosse proposto in tutte le scuole della Toscana e inoltre perché sette mesi ci sono sembrati veramente troppi per aspettare la nomina del nuovo CDA e del Presidente. E' stato nominato in questi giorni, però sette mesi, da novembre che si aspetta, c'erano di mezzo anche le elezioni e quindi ci è sembrata un'attesa troppo lunga. Siamo critici sul ritardo ma è perfettamente in linea su come Gianni e questa maggioranza sta governando la Regione Toscana. Qua c'è la corsa folle alle nomine, c'è la corsa folle a distribuire poltrone e incarichi nei vari consigli di amministrazione, poi una volta distribuite le poltrone abbiamo fatto, finito, chiuso. Poi poco importa se l'ente nominato parte, che risultati porta, che obiettivi c'entra. Il Correcom è l'esempio lampante. Questo dimostra che questa giunta è tranquillamente in grado di tenere sette mesi fermo un ente come il Correcom, un ente di garanzia per i cittadini, per le comunicazioni. Può stare tranquillamente sette mesi fermo. L'importante è aver nominato chi si è nel CDA, poi se lavora, se non lavora. Ma come il Correcom potremo fare altre decine di esempi. Il Correcom potremo fare altre decine di esempi. Grazie a tutti.